Da tempo io preferisco dare voce alle parole di Pietro piuttosto che interpretarlo e lo farò anche qui in forte consonanza con l'intenso ricordo di Mario Tronti ieri in Senato. Pietro Ingrao è stato un comunista, non ha mai dismesso questo suo essere, piuttosto si è sempre interrogato sul suo sentirsi comunista. Scrive nel 1989, quando quel nome fu cancellato come fosse una macchia e una sua immagine in quei giorni, lo vivo, il sentirmi comunista, come un punto di vista che mi aiuta a comprendere quello che devo fare oggi e il domani per cui lavorare. Il comunismo è l'orizzonte da tenere aperto per riconoscere che vi sono domande a cui neppure la giusta mercede e l'uguaglianza formale dei diritti dà una risposta.